segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te la resistenza fin sembrava non finir mai ma poi la banda passò e il pensionato saltò la russa dice di no non c'era nazi a salò però qualcuno era lì e lui racconta di sì ma questo ignazio dentro un podcast quel giorno parlò e dalla guerra tutta un tratto la storia cambiò eppure tutti i giornalisti destrosi gli diede ragione riguardo alla banda e musicisti pensionati un po' anziani annunciò che erano a roma perché c'era da fare uno show dalle finestre poi la bomba lanciò quel partigiano sbagliò e i trelli si incazzò quando la banda assaltò neanche un nazista morì e i partigiani cattivi adesso sono tutti vivi perché la storia è così difende come la scrivi e dei nazisti cattivi per la russa sono dei divi i fasci erano eroi e gli italiani burroni partigiani cattivi ed i fascisti erano buoni ignazio suona per noi mentre ti affaccia i balconi presidente sei tu per colpa di noi coglioni buonasera 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 buonasera